Ciao a tutti e benvenuti nella cucina del Grillo Talpa di Paolo Villen, altronde c'è il tiniello di Vittorio Munari. Non vedo perché non possa esserci la mia cucina. Vabbè, al di là delle sciocchezze e delle stupidate, parliamo delle senazioni. Ieri ho pubblicato un articolo sul blog in cui mi occupavo dell'Italia, oggi faccio questo video per quanto riguarda, per parlare invece delle altre squadre, a partire dall'Irlanda, che è bella, che è cinica, che è veramente forte. Solo applausi per questa Irlanda, che vince queste nazioni con grandissimo merito, assolutamente la squadra migliore di gran lunga anche, la più completa, la più cinica, quella che forse sa leggere meglio anche i vari momenti delle partite e agire di conseguenza. A Dublino stanno lavorando benissimo, l'obiettivo ovviamente, come per tutti, è quello del Mondiale 2019. C'è una crescita continua dal 2015 a oggi, ci sono comunque degli step, degli ostacoli, ogni tanto inevitabilmente si trovano, però sanno benissimo cosa fare, come farlo e come eventualmente raddrizzare la strada quando ci sono queste curve improvvise. Solo applausi per una squadra che veramente dà l'impressione di avere ancora dei grossi margini di crescita. Cosa che invece non si può fare, parlo degli applausi, per l'Inghilterra, che invece chiude quinta addirittura. Mi chiedo a quanto la davano i bookmakers in quella posizione a fine gennaio. Maledetto a me che non ho scommesso neanche una sterlina o un euro. Vabbè, Inghilterra quinta, nessuno l'avrebbe detto, a partire da Eddie Jones e dai primi tifosi inglesi, dai giocatori, e invece è successo. L'Inghilterra ha infilato dalla terza partita in poi tre partite, tre sconfitte consecutive, contro Scozia, contro Francia, contro l'Irlanda. E mettiamoci anche a partita con Galles, la seconda, che ha vinto con grandissima fatica e nella quale è stata annullata una meta assolutamente valida a Galles, riconosciuto anche da World Rugby. Immaginiamo cosa sarebbe successo con quattro sconfitte, battuta solo l'Italia. Insomma, se nazioni veramente negativo per Eddie Jones e per i suoi, dire perché è complicato, tanto non c'è sicuramente una sola ragione, ce ne sono molte. Qualche spunto, ve la butto lì, parere personalissima ovviamente. Un po' probabilmente le altre squadre hanno preso le misure, gli inglesi, che hanno forse messo l'asticella non tanto troppo in alto, ma troppo in là nel tempo. L'obiettivo loro è quello prima della partita con gli All Blacks, che è solo un assaggio per il vero obiettivo finale, cioè il mondiale 2019. Probabilmente metterla così lontano nel tempo ha lasciato qualche dettaglio sull'oggi un po' da parte e i dettagli a quei livelli lì sono determinanti. Aggiungiamo che già la partita con il Galles, qualche taro nella testa degli inglesi, probabilmente l'ha messo, la sconfitta in Scozia, assolutamente, ha minato la fiducia del gruppo, che poi è andata a giocare contro una Francia tostissima e a perdere a Parigi. Perdere con merito, mi viene da dire, perché la Francia ha meritato di vincere quella partita. Quindi c'è una, non un'involuzione, ma un problema, prima psicologico che non tecnico, tattico. Sicuramente ci sono degli aspetti tecnici e tattici da affrontare per Andy Jones, ma sono meno importanti in questo momento che non quello psicologico. Inghilterra che prova tutte le possibilità di riprendersi al più presto, ha un bacino enorme, giocatori fortissimi, uno staff tecnico all'altezza. Quindi il valore vero dell'Inghilterra non è quel quinto posto lì, non è l'Inghilterra, vista in questi due mesi, non è la vera Inghilterra. Deve riprendere a correre, ma lo farà sicuramente. Ho accennato la Francia, la Francia è assolutamente la sorpresa positiva delle nazioni. È una non squadra ancora, nel senso che è un gruppo di uomini, di giocatori magari fortissimi, come in tanti hanno sottolineato, tanti hanno scritto, ma non è ancora una squadra. È però una personalità che davvero non ci si aspettava. Una voglia di imporsi, di dimostrare che non sono una squadra allo sbando. Certo, rugby champagne è un'altra roba, ma insomma, hanno battuto l'Inghilterra, hanno battuto l'Italia, hanno giocato a tratti brevissimi, anche abbastanza bene. Ma ripeto, Brunel è stato chiamato tra Natale e Capodanno a fare il CT. Ma è successo che nella storia della federazione francese un CT venisse esonerato. Uno staff tecnico che è stato creato con qualche difficoltà, e probabilmente non è quello che aveva in mente lo stesso Brunel. Eppure si sono comporati molto bene. Il giorno che la Francia diventerà una squadra, saranno bip amari per tutti, perché i giocatori ci sono. La personalità assolutamente c'è. Se si mettono a giocare da squadra, e magari arrivano al Mondiale un po' da underdog, insomma, possono dire la loro. E andare anche molto, molto avanti. Galles, Galles è arrivato secondo. È un po' per demerito inglese, insomma, sicuramente, o quantomeno è la squadra che meglio ne approfitta, più ne approfitta della debacle inglese. Galles che ha dei problemi, Galles che però non molla mai, è Galles, insomma, il cuore in Gallesi lo conosciamo tutti. Gatland da qualche anno ha qualche problema. Non riesce a risolverlo, come ne risolve uno se ne presenta un altro. Hanno tanti giovani, alcuni sono di grandissime speranze, di grandissimo livello, alcuni sono un po' acerbi, però, insomma, è lì, è arrivato secondo, ed è arrivato con merito, perché comunque è una squadra che ha dimostrato avere qualcosa in più rispetto alle altre. Irlanda parte, che è prima per parecchie misure anche di vantaggio. Chiudiamo con la Scozia. Scozia, che era invece la delusione del torneo, ci si aspettava di più, ce la si aspettava più bella, soprattutto. E invece l'ha vista bella poche volte, contro l'Inghilterra sicuramente, ma Roma è venuta un po' così, insomma, non ha giocato bene, merito anche dell'Italia, non si scappa che ha giocato la sua migliore partita del torneo. Alla fine ha vinto lo stesso, perché ha qualcosa di più, ha qualcosa rispetto a noi, e se le ha portate a casa. Però la Scozia, che ci si aspettava, è sicuramente un'altra. Ultima cosa, ve la butto lì, solo uno spunto. Abbiamo parlato, per quanto riguarda tutte le squadre, squadre toste, squadre forti, squadre con magari personalità, squadre belle, a parte l'Irlanda, non se ne sono viste proprio tante. Se non a momenti, non a tratti, partite belle, non se ne sono viste tantissime. Parlo di spettacolo puro, intendiamoci, perché partite intense, lo sono state tutte. Partite belle, invece, in questo Se Nazioni 2018, se ne sono viste forse meno, che negli ultimi anni. Negli ultimi anni, scusate. magari mi sbaglio, magari è una questione di, tipo di spettacolo, che si vuole vedere. L'intensità è una bella cosa, la tensione è una bella cosa, lo spettacolo, però, forse, è un altro ancora. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti.